ciao ciao a tutti ragazzi allora faccio questo video perché uno per parlare di allegri cinque minuti e poi anche per parlare vi devo per chiarire delle cose che devo dire ai miei iscritti o la gente che mi segue ok allora iniziamo a parlare un po di allegri ho visto max che ha fatto un video che ha detto che se perdiamo con la salernitana può darsi che mandano via allegri no ragazzi allegri non lo mandano via uno perché lo pagano un sacco di milioni e gli toccherebbe pagarli ancora più paghere dovrebbero pagare loro che addirittura la juventus ancora paga pirlo perciò dovrebbero pagare tre allenatori perciò ragazzi scordatevi che mandano via il signor allegri perché il signor allegri non lo mandano via nemmeno se perdiamo con la salernitana comunque io sono convinto che con la salernitana non perdiamo e andrà avanti così ragazzi tutto il campionato vinciamo una partita due con quelle squadrette tre perché può darsi che si vincere anche con genova può darsi anche con venezia perché quelle sono comunque con venezia già è un po più sarà un po più duretta perché venezia non è male però diciamo che si potrebbe vincere anche tutte e tre ma è il discorso che quando troveremo un'altra squadrina che gioca al calcio e riprenderemo riprenderemo degli schiaffi come sempre perché tanto è così il gioco d'allegri è questo non cambierà mai e la società non lo manderà via né quest'anno né il prossimo anno la società vedrete che andremo avanti arriveremo sesti settimi per me il campionato lo vince il napoli che per me è la squadra più forte o il napoli o magari anche l'inter proprio io sono più convinto che lo vince il napoli il campionato per me è una bella squadra giocano benissimo al calcio come ha detto anche max che hanno ieri ho visto la partita non la partita ho visto gli allies ma stanno giocando veramente un calcio bellissimo c'era chi diceva che senza osimene senza quello senza che l'altro invece ragazzi vi stanno dimostrando che anche senza quelli c'è quel mertens che ha fatto due gol spettacolari perciò ragazzi per me campionato e se lo meriterebbe anche il napoli perché ci è andato vicino parecchie volte per una cosa o l'altra anche quando c'era sardi magari se lo meritava e se lo meriterebbe comunque a parte questo il signor allegri non lo manderanno via arriveremo sesti o settimi e poi il prossimo anno sarà la solita cosa perché ora alla fine del campionato la Juventus dirà oh ma il prossimo anno cambieremo faremo questo faremo e teneremo e terranno ancora il signor allegri e ricominciamo uguale ragazzi purtroppo la situazione è questa e non cambierà niente io lo spererei ma non ci credo perché come vi ho detto devono pagano ancora pirlo anche se pirlo lo pagano poco però pagano ancora pirlo mandare via allegri ora che lo pagano 9 milioni e prendere un altro allenatore non è una cosa da farsi specialmente 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 nel momento che la juventus perciò ragazzi scordatevelo che il signor allegri dobbiamo sorbircelo per almeno un altro paio d'anni purtroppo sarà così anche se mi dispiace però purtroppo è così ok un'altra cosa io faccio questo video specialmente perché ieri sera ho visto il video di so bianconero di luca con max e giuseppe e ho visto tanta gente che si lamentava di me per questo questo che è stato sapete messo perché perché qualcosa mi scappa a me qualche bestemmia insomma mi dispiace però io per per tagliare la gamba al toro ragazzi non rientrerò mai più nelle live né di so né di max né di nessun altro e farò qualche live da me quando quando mi va è chiuso lì così almeno non darò più noi a nessuno non romperò più coglioni a nessuno e così finiamo così finisco di vedere la gente che se la metta che va sulle live di luca a dire questo che è stato così io non ho problemi con nessuno e giusto lì senza problemi tanto già avevo pensato di fare una cosa del genere così almeno non rompo più il cavolo a nessuno se una volta ogni tanto voglio fare la live la faccela solo se mi va se non mi va no ora chiudo tutti i rapporti con quelli che c'ho su youtube archivio tutti così non sento più niente di nessuno è finita lì come vi dico una volta ogni tanto una volta ogni mese due o tre o anche fra un anno non lo so se mi fa di fare qualche live la faccio e se no non me ne frega niente altro io non è che sono qui per guadagnare soldi perciò non me ne frega niente mi dispiace che facciamo così e vi ringrazio tutti per insomma siamo quasi arrivati a 600 ma a questo punto non è che me ne frega più niente perciò come vi dico io non sono non sono mai andato a dire a nessuno di non fare questo di non fare quest'altro però visto che ha gente che se la metta perché perché io faccio questo questo che è stato e va bene non ci sono problemi sono la mia vita non c'è problema ok ciao a tutti non so quando ci rivedremo e niente ciao ciao